ciao amici stranger sail come si pronuncia e andiamo immediatamente avanti trova fiona in cuchins eccola qua si le avevo preso il pentolozzo andiamo avanti con la seconda parte del video secondo episodio di marco dramsgay su stranger ray tempesta beh tranquilla spiaggia remota io non a lei ma vediamo un attimo perché ho stufato sul tavolo dietro stufato per l'equipaggio allora allora lo stufato ok credo di aver tipo buggato ah no 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 più faccio per l'equipaggio pomodori ok ah solo non ce l'ho patate ok l'ultimo poverino non ha ma no 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 ma poveraccio l'ultimo stai sentando magna quel povero amico ampia fattoria piccolo scorciatoia spiaggia spiaggia fattoria campo ah ottieni per due potenziamento oggetto vabbè visto che ne abbiamo pochi ciao pione allora in teoria ragazzi però se io faccio così allora non me lo ricordo più eh io faccio la pala e ci facciamo anche tre piantini più non è che ci farebbe schifo eh ok le sementi adesso cosa ho cinque sementi quindi prepariamo cinque campi intanto ora sto facendo la brogaglia eh ok ok perfetto un bel lettino eh dai ok entriamo in decorazione ok mi mancano solo gli alberi gli alberi gli alberi andiamo andiamo a a salradicare un po' a salradicare un po' di alberi allora io credo che gli alberi mi sto imbegando andiamo a salradicare un po' a salradicare un po' di alberi ecco gli alberi poi troppo non è che ce ne sono tantissimi eh allora amici e amiche a me piacciono davvero tanto i giochi così tranquilli rilassati va in giro scopri prende le risorse molto bellino questo è molto cartonoso molto cartonoso però sinceramente ci sta perché non posso tirare giù le faglie non è che ce n'è tantissimi di alberi patata ah che ti parla wow ah vedi ci dice lui la matta un vecchio singolo spiega bene tutte le cose del gioco ragazzi quindi se volete comprare lo spiega davvero bene ok bello che poi non mi ricordo ovviamente se non mi ricordo devo ottenere la ricompensa dello stufato adesso appena trovo la legna perché voglio fare anche il letto per i nostri amici se ogni tanto arriva qualcosa dal mare a correre fa sprecare un sacco di energia ma un sacco sacco non salta ragazzo questa bella cassa queste arrivano dal mare almeno le pannocchiette possiamo mangiarsene in tranquillità semi forse allora io credo di aver messo le pannocchie ma non aver messo l'acqua quindi praticamente non serve a nulla quello che ho fatto ah c'erano anche i rovi scusa vegetazione e alberelli e scusatemi ma purtroppo come tutte le cose per avere progresso bisogna e poi ripiantumiamo eh ripiantumiamo qualche altro allora guardate quanto consumo di energia è direttamente la caccia coltanto guarda il suo votino è in corso un angolo per catturarla Porca loca C'è una mica morta Mi sei morto C'era la scimmia Johnny La scimmia Porca loca Suvenuta dalla fama Fiona è ancora qui che fa da mangiare Fiona è incredibile Sto fatto assieme a costello Sono sicuro che il piccolo verrà Sto fatto durare Sto fatto durare poche ore Puoi iniziare a preparare un'altra Pena possibile Ok Questa carta inchiostra Gli ha gradito furiosamente Si è fermata solo quando hai detto a scrivere Chiedi aiuto Ma questo è bestia e peggio che sono unafragato Fritz abbiamo bisogno del tuo aiuto Bello papagallino Per rendere felici tutti Tanta roba Ok Allora Vediamo un secondo Allora Prima di tutto Acqua Ok Ok Quindi Seconda Pannocchia 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 Semi Ah no Per fortuna non bisogna Per fortuna non bisogna Usare i semi tutte le volte raga Pannocchia Pensavo che i buchi rimanevano Parla con Charles Ok 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 perfetto perfetto ciao Marco Zambio devo vedere come stai molto preoccupato per te allora stufato per lui poi per lui e invece diciamo patata per lui che so che gli piace e cipolla per lei si si adora gli piace gli piace gli piace gli piace uno un bello stufatozzo allora otteniamolo dai e poi io farei questa sinceramente questo che cos'è sacchetto importante sacchetto importante sacchetto importante faccio le cose più veloci per poter andare le scorciatoie ok ok dai ok dai dai ok dai ok dai 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 vediamo la casa vediamo la casa di chi è questa cosa allora soddisfatto stufato ai miei oggetti sto a mangiare stili preferiti stili preferiti fiona e metto qua in mezzo Ti metto un bel... ti piace? Siamo nelle relazioni Lei era... Fiona era? Credo che è contenta Raccogli e ricompensa quindi... No credo che... Raccogli e ricompensa Ho pensato a una mia... ho creato la base su cui costruire... Davo un'ampiata Eh non è che mi ha dato proprio le ricompensa eh? Le ricette sono sempre quelle... Beh insomma mi ho preso un giro qui Non ce li ho? Quattro lacci di legno corda robusta Non so le scorciatoie... Che ne le ha fatte eh? Vediamo un secondo perché... Il più bello che è con noi Uff... Charles tu sei? Noi me lo dici già se facciamo qua ok praticamente qua ecco allora se c'è questo va sì ho capito che te le regalo dovrei darti a te non ti conosco possiamo farti un letto non posso farlo non ti piace il letto non gli piace il letto penso che a quella la io gli ho fatto un letto normale a lei gli piaceva invece in un altro stile credo però ragazzi dovete accontentarmi il ricompense non mi stai dando una sega ah ma lui mi dà i cosi ma devo costruirlo io mi dico già ti ho speso una stella per andare giù di qua assia robusta sai che l'assia robusta credo che posso farla tu ti sei sven sven amata non ce l'ho ok niente dobbiamo fare la legna così riesco a costruire un porticciolo che va giù direttamente di qua perché se no tutte le volte devo farmi il giro e il giro non mi obbiamo tra l'altro credo che devo mettere altra acqua ok 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 a perfetto dovrebbe essere qua esatto cacchio da tre alberi un'asse quindi se andiamo qui no i tasselli che cosa devo fare per i tasselli fammi vedere dai devo andare di là aspetta che no dai ma non è possibile a lei devo ricordarmelo devo ricordarmelo a lei piace ah è 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 il viaggio non è gratis ci sono rimasto un po male prima c'erano le scimmie per fare 100 metri la runa si attiva alto allora a me sceglierebbe anche il legno ok 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 sono riuscito prenderlo ok 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 allora una scimmietta l'abbiamo presa oh ghianda bella lì vediamo un attimo eh non sempre migliaia allora la problematica è solo una che che purtroppo che purtroppo non scimmia guarda corda oh dovrebbero esserci tre scimmie uh la qualcosa c'è sotto uh pannocchie io potrei mangiare una pannocchia aspetta un secondo eh ma scusami mi scusi signore dov'è dov'è la pannocchia dov'è la pannocchia no dai non c'è la pannocchia non posso che aspetta allora diventa complicata la storia non mi sono fatto niente da mangiare qui ah qui era dove vedevo dall'alto bellissimo semi di mais ci sta ci sta ci sta ahhh caverna speriamo che ci daranno fighissimo io sto quasi perdendo tutta la forza e non c'è nulla devo cucinarmi qualcosa o dai ma come faccio andar giù ci sarà più avanti il modo di costruire una scala secondo me ragazzi perché e ragazze perché non c'ha senso stackers vedi qua non va vabbè e di lui non può assolutamente quella è proprio un'altra parte dell'isola allora un po di roba l'ho presa c'è sicuramente qualcosa speriamo qua è sempre gratis vedete quindi dagli altri a qui è gratis e ci sta però è comunque un bel pezzo si pesca ho bisogno della canola pesca un po di roba ecco caro, si scusa l'acqua, non si balla a parla ciao, ciao oh, grazie no io non so se faccio bene perché la corda non ne ho tanta ok, però i pioli, ecco, proviamolo ok, facciamo l'asse magari non li usiamo tutti, facciamo solo così oh, 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 qua ce la prendere tante belle pannocchie quattro e due corda robusta, non ce l'ho questi, niente ancora pronto allora, andiamo di acqua un po' di più un po' di più un po' di più Ok, perfetto, allora, cannocchiale. Ok. Stufato. Eh sì, prepariamo quattro ore di stufatino con le piacce. A tutti piace, lei lo adora, invece l'altro adora i pomodori, eh. No, 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 no. Awww. 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 Allora, serve acqua, è un po' natura, eh. Ok. Ok. Awww. Awww. L'acqua. Ragazzi, è una cosa assurda il tempo che si passa con questo gioco, eh. Oh, vedi che comunque è una figata perché è svene lui. Awww. La barchettaaa. Ma dai. No, come si fa a rimare, scusa? No. aspetta. ho perso un'altra cosa oh sii la corda raga trova il pescatore effettivamente ci sta che si consuma un sacco di trova troppo lento ma qui che parte dalla mappa siamo qui che cosa c'è x a 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 carota wow non so devo fare la canna da pesca allora ragazzi io comincio già a salutarvi vi aspetto al prossimo video di questo gioco che secondo me è tuttissimo se seguite il mio canale youtube seguite il mio canale youtube iscrivetevi e commentate e chiedetemi se vi piacciono i gioco cosa se volete qualche gioco o i semi di carota bella ricordaci sta di brutto dovete qualche gioco in particolare se avete bisogno di qualcosa trofei platini un po di tutto eh raga un boxing tante tante cose da e e e ecco l'unica cosa che dovrebbe prendere da solo qua c'ha ragione c'ha ragione ecco si 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 beh pensiamo un po' di più ci sta si si cipolle dobbiamo andare a prendere l'acqua e ci salutiamo ragazzi quindi mi raccomando iscrivervi al mio canale youtube portare ai vostri amici commentate mi piace un sacco di giochi dei one playstation xbox playstation 5 xbox serie 6 e le live le mega live delle 21 e delle ore 15 sabato domenica invece tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 21 su twitch sempre marco dance games cercatemi io comunque i link li metto anche qui e mi raccomando di qui qui di seguirmi e di portarmi un po' di gente amici miei un po' di pubblicità ah porca loca quella una volta fatta è finita non è come il mais che no sei serio sono rimasto senza non sono accorto vabbè dai con questa svegliamento vi saluto e mi raccomando di seguirmi anche su facebook twitter instagram twitter twitter wechat telegram e discord ciao amici al prossimo video con questo gioco alla prossima ciao